Ciao a tutti, siamo qua a Imola per la mia seconda gara di casa dell'AutoGP, sono molto contenta di essere qua, qualcuno forse si ricorda che qui ho vinto la mia prima gara tutta da sola nel gita italiano l'anno scorso, quindi sicuramente una pista che mi dà sensazioni molto positive. Oggi abbiamo fatto una giornata di prove libere che sono andate direi abbastanza bene, potevano andare meglio però siamo sempre rimasti nei primi 5, stamattina terza e oggi pomeriggio invece quinta, però insomma sul passo si andava molto bene, poi sono andata in sabbia quindi ho finito le prove un po' prima, però insomma mi sento abbastanza bene. Domani mattina ci saranno le qualifiche e poi già gara 1 alle 15.15, per cui mi raccomando seguitemi come al solito, non so ancora se le gare saranno in diretta su Eurosport, temo di no ma ve lo farò sapere perché in caso comunque potete seguire tutto in live streaming sul sito dell'AutoGP, autogp.net e basta, poi vi tengo sempre aggiornati con i post sulla mia pagina Facebook e su Twitter e su Instagram. Ciao ciao! 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 Ciao!